Le due foto, grandi a sinistra, sono state scattate prima del trapasso al padre di Franco Grigiotti, il cui nome appare più volte nei video di evolvenza nella sezione Metafonia, il caso Mirella. Il padre di Franco, a lungo accudito amorosamente dal figlio, gli aveva più volte promesso che, se avesse potuto, si sarebbe manifestato dall'oltre. Dopo il trapasso del padre avvenuto all'età di 104 anni, Franco ha incontrato in un congresso una medium che vuole rimanere rigorosamente anonima e le ha chiesto notizie del padre. Questa medium ha la caratteristica che, in stato di semi trans, vede davanti a sé le entità con cui viene in contatto e le riprende con il telefonino. La donna non ha mai visto il padre di Franco Grigiotti, né in fotografia né di persona, e grande è stata la meraviglia di Franco quando la medium gli ha inviato queste foto del padre trapassato che lui ha riconosciuto nella penultima piccola foto, a destra delle altre, e molto di più nell'ultima foto a destra. Grazie